In occasione della giornata internazionale della donna sono stati diversi gli appuntamenti organizzati a Teramo. La Commissione Pari Opportunità della Provincia ha presentato i risultati delle attività e dei servizi del Centro Antiviolenza alla Fenice di Casamaia, i cui dati però confermano la tragica escalation di violenza che si registra anche a livello nazionale. È incontrato una delegazione di studenti delle scuole superiori. Solo l'anno scorso, nel 2023, abbiamo avuto 72 donne che si sono rivolte al Centro Antiviolenza alla Fenice, 62 direttamente al centro e 10 sono state accolte nella Casa Rifugio Casamaia, che è una casa ad indirizzo segreto nella provincia di Teramo. Purtroppo da gennaio 2024 ad oggi sono 19 le donne che si sono rivolte al Centro Antiviolenza. Quindi c'è un'escalation di questo fenomeno. Ecco perché dobbiamo informare e sensibilizzare i nostri giovani, le giovani generazioni, perché saranno gli uomini e le donne di domani e quindi potranno contribuire a costruire una società migliore. Inoltre la Commissione delle Pari Opportunità della provincia di Teramo denuncia anche l'aumento di violenze registrate sui minori. Purtroppo, con i dati che abbiamo rilevato, l'anno scorso sono stati coinvolti anche 40 minori, quindi figli minori e 16 maggiorenni. Diciamo che la maggior parte delle donne che si sono rivolte al Centro sono di nazionalità italiane, soltanto 9 sono di nazionalità straniera. La maggior parte hanno un'occupazione lavorativa, la maggior parte hanno un diploma di scuola superiore e la fascia più colpita d'età è quella che va dai 31 ai 60, anche se non mancano giovani donne dai 18 ai 30. Altro importante appuntamento è stato quello organizzato dal Partito Radicale che insieme ad una delegazione composta da 9 personalità di spicco del territorio ha fatto visita alla sezione femminile della Casa Circondariale di Castrogno. Evento questo inserito all'interno dell'iniziativa nazionale Un Fiore per le Donne. È una situazione di sofferenza. Noi ci troviamo non con un dato numerico di sovraffollamento per quanto riguarda la sezione femminile, perché abbiamo 42 detenute su 50 posti regolamentari, a differenza dell'altra parte maschile dove i dati sono completamente ribaltati. Davanti a questa situazione l'altra questione che è grave è che le detenute affette da problematiche psichiatriche sono in numero notevole, oltre il 40%, tant'è vero che ieri si è registrato un tentativo di suicidio che peraltro ha attinto anche una sorvegliante. Questa questione qui si aggrava ulteriormente col dato che una sola detenuta svolge il lavoro esterno al carcere, una sola. Le altre che sono impegnate a fare lavori interni vengono pagate poco.